Libro del profeta Ezechiele, capitolo 23 La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo Figlio d'uomo, c'erano due donne, figlie della stessa madre, che si prostituirono in Egitto. Si prostituirono nella loro giovinezza. Là furono compresse le loro mammelle, e là fu stretto il loro vergine seno. I loro nomi sono Olà, la maggiore, e Olibà, sua sorella. Esse erano mie, e partorirono figli e figlie. I loro nomi sono Olà e Samaria, Olibà e Gerusalemme. Anche se era mia, Olà si prostituì e si infiammò per i suoi amanti, gli assiri, i suoi vicini, vestiti di porpora, governatori e principi, tutti giovani attraenti, cavalieri montati su cavalli. Ella si prostituì con loro, con tutti gli uomini migliori di Assiria, e si contaminò con tutti quelli per i quali si era infiammata, con tutti i loro idoli. Inoltre, Ella non abbandonò le sue prostituzioni portate dall'Egitto. Nella sua giovinezza, infatti, gli egiziani si erano coricati con lei, e avevano compresse le sue vergini mammelle, e riversato su di lei la loro prostituzione. Perciò l'abbandonai in mano dei suoi amanti, in mano dei figli di Assiria, per i quali si era infiammata. Essi scoprirono la sua nudità, presero i suoi figli e le sue figlie, e la uccisero con la spada. Ella divenne una favola fra le donne, ed eseguirono giudizi su di lei. Sua sorella, Libà, vide questo, ma nei suoi amoreggiamenti divenne più corrotta di lei, e le sue prostituzioni furono peggiori di quelle di sua sorella. Si infiammò per i figli di Assiria, suoi vicini, governatori e principi vestiti splendidamente, cavalieri montati su cavalli, tutti giovani attraenti. Io vidi che ella si era contaminata, entrambe seguivano la stessa via, ma essa aumentò le sue prostituzioni. Vide uomini ritratti sulla parete, immagini di caldei dipinte di rosso, con cintura intorno ai lombi, con ampi turbanti in capo, tutti con l'aspetto di capitani, somiglianti ai figli di Babilonia in caldea, loro terra natia. Appena li vide, essa si infiammò per loro, e mandò loro messaggeri in caldea. Allora i figli di Babilonia vennero da lei al letto degli amori, la contaminarono con le loro prostituzioni. Essa si contaminò con loro, ma poi la sua anima si allontanò da loro. Essa mise a nudo le sue prostituzioni e mise a nudo la sua vergogna. Perciò la mia anima si allontanò da lei, come si era allontanata da sua sorella. Tuttavia, essa moltiplicò le sue prostituzioni, ricordandosi dei giorni della sua giovinezza, quando si era prostituita nel paese d'Egitto. Si infiammò per i suoi amanti, la cui carne è come la carne degli asini e la cui emissione è come quella dei cavalli. Così tu ricordasti la dissolutezza della tua gioventù, quando gli egiziani stringevano il tuo seno per le tue mammelle giovanili. Perciò, oliba, così dice il Signore, l'Eterno. Ecco, io susciterò contro di te i tuoi amanti, dai quali la tua anima si allontanò. e li farò venire contro di te da tutte le parti. I figli di Babilonia e tutti i caldei, quelli di Pecot, Shoah e Koah, tutti figli di Assiria con loro, tutti giovani attraenti, governatori e principi, capitani e uomini famosi, tutti montati su cavalli. Essi verranno contro di te con armi, carri e ruote e con una moltitudine di popoli. Disporranno tutti intorno contro di te scudi piccoli e grandi edelmi. Rimetterò loro il giudizio ed essi ti giudicheranno secondo le loro leggi. Indizierò la mia gelosia contro di te ed essi ti tratteranno con furore. Ti asporteranno il naso e gli orecchi e i tuoi superstiti cadranno gli spada. Prenderanno i tuoi figli e le tue figlie e i tuoi superstiti saranno divorati dal fuoco. Ti spoglieranno dalle tue vesti e porteranno via i tuoi bei gioielli. Così farò cessare la tua dissolutezza e la tua prostituzione iniziata nel paese d'Egitto. Non alzerai più gli occhi verso di loro e non ti ricorderai più dell'Egitto. Perché così dice il Signore, l'Eterno. Ecco, io ti do in mano di quelli che odi, in mano di quelli dai quali ti sei allontanata. Essi ti tratteranno con odio, porteranno via tutto il frutto del tuo lavoro e ti lasceranno nuda e nel bisogno. Sarà messa a nudo la torpitudine delle tue prostituzioni. Sì, la tua dissolutezza e le tue prostituzioni. Queste cose ti saranno fatte perché ti sei prostituita andando dietro alle nazioni, perché ti sei contaminata con i loro idoli. Tu hai camminato per la via di tua sorella, perciò ti metterò in mano la tua stessa coppa. Così dice il Signore, l'Eterno. Tu berrai la coppa di tua sorella, profonda e larga. Sarai derisa e schernita, perché la coppa ha grande capacità. Sarai ricolma di ubriachezza e di dolore. E la coppa della desolazione e della devastazione è la coppa di tua sorella Samaria. Tu la berrai, la scolerai, ne remperai i cocci e ti lecererai il seno, perché io ho parlato, dice il Signore, l'Eterno. Perciò così dice il Signore, l'Eterno, perché mi hai dimenticato e mi hai gettato dietro le spalle, porterai anche tu la pena della tua dissolutezza e delle tue prostituzioni. Quindi l'Eterno mi disse, figlio d'uomo, non giudicherai tu Ola e Oli Bavà? Dichiara dunque loro le loro abominazioni. Infatti, hanno commesso adulterio, hanno sangue sulle loro mani, hanno commesso adulterio con i loro idoli e hanno addirittura fatto passare per il fuoco, per essere divorati, gli stessi loro figli che mi avevano partorito. E anche questo mi hanno fatto. In quello stesso giorno, hanno contaminato il mio santuario e profanato i miei sabati. Dopo aver immolato i loro figli e i loro idoli, in quello stesso giorno, sono venute nel mio santuario per profanarlo. Ecco cosa hanno fatto in mezzo al mio Tempio. Inoltre, hanno mandato a chiamare uomini da paesi lontani, ai quali è stato mandato un messaggero. Ed ecco, quelli sono venuti. Per loro ti sei lavata, ti sei tinta gli occhi e ti sei abbigliata con splendidi ornamenti. Ti sei adagiata su un letto sontuoso con una tavola imbandita davanti, su cui hai posto il mio incenso e il mio olio. Attorno ad essa c'era il rumore di una moltitudine spensierata. Assieme a uomini della folla, fecero pure venire ubriachi dal deserto, che misero braccialetti ai loro polsi e le splendide corone sui loro capi. Poi dissi di quello ormai logora in adulteri, combetteranno ora prostituzioni con lei ed essa con loro? Essi entrarono quindi da lei come si entra da una prostituta. Così entrarono da Olà e da Olibà, donne dissolute. Ma uomini giusti le giudicheranno come si giudicano le adultere, come si giudicano donne che versano sangue, perché sono adultere e hanno sangue sulle mani. Perciò così dice il Signore, l'Eterno. Io farò salire contro di loro una moltitudine e le darò in balia del terrore del saccheggio. Quella moltitudine le lapiderà con pietre e le farà a pezzi con le sue spade, ucciderà i loro figli e le loro figlie e darà alle fiamme le loro case. Farò cessare la dissolutezza nel paese e tutte le donne saranno ammaestrate a non commettere più le vostre dissolutezze. Faranno ricadere la vostra dissolutezza su di voi e porterete così la pena dei peccati commessi con i vostri idoli. Allora riconoscerete che io sono il Signore, l'Eterno. Libro del profeta Ezechiele capitolo 23 Libro del profeta Ezechiele capitolo 24 La parola dell'Eterno mi fu rivolta nel nono anno del decimo mese, il decimo giorno del mese, dicendo Figlio d'uomo scrivi per te il nome di questo giorno sì di questo giorno stesso Il re di Babilonia ha deciso di assediare Gerusalemme questo stesso giorno Proponi una parabola a questa casa ribelle e di loro Così dice il Signore l'Eterno Metti sulla pentola Mettila su e versaci dentro acqua Raccogli in essa i pezzi di carne tutti i pezzi buoni la coscia e la spalla Riempila con ossa scelte Prendi il meglio del gregge quindi ammucchiavi sotto le ossa Falla bollire gaiardamente affinché in essa bollano anche le sue ossa Perciò così dice il Signore l'Eterno Guai alla città sanguinaria alla pentola in cui c'è sporcizia e la cui sporcizia non se ne va Vuotala a prezzo per pezzo senza tirare a sorte su di essa Poiché il sangue in mezzo a lei lo ha posto in cima a una roccia non l'ha sparso in terra per coprirlo di polvere Per eccitare il furore per farne vendetta ha posto il suo sangue in cima a una roccia perché non fosse coperto Perciò così dice il Signore l'Eterno Guai alla città sanguinaria anch'io farò un gran rogo Ammassa la legna accendi il fuoco e fa cuocere bene la carne Mescola le spezie e lascia che le ossa bruciano Poi rimetti la pentola vuota sui carboni perché si riscaldi e il suo bronzo diventi rovente affinché la sua impurità si dissolve in mezzo ad essa e la sua sporcizia sia consumata Essa mi ha stancato con le sue menzogne la sua grande sporcizia non se ne va la sua sporcizia andrà a finire nel fuoco C'è dissolutezza nella tua impurità Io infatti ho cercato di purificarti ma tu non sei pura Non sarai più purificata dalla tua impurità finché non abbia acquietato su di te il mio furore Io l'Eterno ho parlato La cosa avverrà Io la compirò Non indietreggerò Non avrò compassione Non mi pentirò Essi ti giudicheranno secondo le tue vie e secondo le tue azioni dice il Signore l'Eterno La parola dell'Eterno mi rivolta dicendo Figlio d'uomo ecco io ti porterò via con un sol colpo la delizia dei tuoi occhi ma tu non far cordoglio non piangere e non versare alcuna lacrima gemi in silenzio non fare il lutto per i morti cingiti il capo col turbante mettiti i sandali ai piedi non coprirti la barba e non mangiare il pane delle persone in lutto Al mattino parlai al popolo e alla sera mia moglie morì La mattina dopo feci come mi era stato comandato Il popolo allora mi chiese Non ci spiegherai che cosa significa per noi quello che fai? Io risposi loro La parola dell'Eterno mi è stata rivolta dicendo Dì alla casa di Israele Così dice il Signore l'Eterno Ecco io profanerò il mio santuario l'orgoglio della vostra forza la delizia dei vostri occhi il diletto della vostra anima e i vostri figli e le vostre figlie che avete lasciato cadranno di spada E voi farete come ho fatto io Non vi coprirete la barba e non mangerete il pane delle persone in lutto Avrete i vostri turbanti in capo i vostri sandali ai piedi Non farete cordoglio e non piangerete ma vi struggerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro Così Ezechiele sarà per voi un segno voi farete in tutto come ha fatto lui Quando queste cose accadranno riconoscerete che io sono il Signore l'Eterno E tu figlio d'uomo il giorno in cui toglierò via da loro la loro forza la gioia della loro gloria il diletto dei loro occhi la brama della loro anima i loro figli e le loro figlie In quel giorno un fuggiasco verrà da te per dartene la notizia In quel giorno la tua bocca si aprirà col fuggiasco Allora parlerai e non sarai più muto e sarai per loro un segno Allora riconosceranno che io sono l'Eterno Libro del profeta Ezechiele Capitolo 24